Benvenuti, in questo episodio alimentare di Player 2 Lighting parliamo di un nuovo prodotto ideato dalla Muraro. La Muraro è una società di cui ho già parlato in precedenza quando ho mostrato i diversi tipi di stativi che possiamo usare all'interno di uno studio fotografico. In questo caso il prodotto di cui parliamo oggi è leggermente diverso e si chiama Muraro Octopus ed è un tipo di attrezzatura che può interessare soprattutto chi è appassionato alla fotografia naturalistica. Infatti Muraro Octopus è l'unione tra un cavalletto e un piccolo capanno mimetico. Un problema che devono affrontare tutti quelli che vogliono fare fotografia ad animali selvatici infatti è quello di riuscire ad avvicinarsi abbastanza ai propri soggetti per fare delle fotografie soprattutto senza spaventarli. Per questo motivo nella fotografia naturalistica si usano spesso dei teleobiettivi che raggiungono o anche superano i 400 mm come lunghezza focale. Solitamente i fotografi naturalisti si vestono con abbigliamento mimetico, un po' come quello dei cacciatori, oppure utilizzano dei capanni costruiti fissi in boschi o parchi per fare gli appostamenti o per esempio delle capanne un po' come quelle da campeggio con trama mimetica per poter scegliere l'angolazione da cui scattare le fotografie. Il Muraro Octopus rientra in quest'ultima categoria come soluzione però unisce come struttura il capanno mimetico al cavalletto. In questo modo abbiamo una soluzione più portatile, più veloce anche da costruire e soprattutto è più facile prendere cavalletto e capanna e spostarsi in un'altra posizione. Diamo un'occhiata a cosa compone il kit di questo prodotto. Prima di tutto abbiamo lo stativo che è un normale stativo con un'asse centrale regolabile in altezza, dopodiché abbiamo l'elemento un po' particolare di questo prodotto ovvero le due braccia che si mettono in posizione orizzontale e che formano la base, la struttura sulla quale appoggiamo il tessuto mimetico e infine abbiamo una borsetta con il tessuto mimetico che è cucito in modo da poter formare questo capanno che possiamo utilizzare per appostarci e aspettare i nostri soggetti. Opzionalmente possiamo anche acquistare il monopiede prodotto dalla Muraro che è compatibile come diametro con il resto delle attrezzature e per esempio può essere utilizzato anche con le due braccia che sostengono soprattutto il capanno mimetico. Preso da solo il cavalletto è un normale cavalletto che possiamo usare in qualsiasi situazione. La testa del cavalletto non è inclusa nel kit quindi ne dobbiamo utilizzare una già in nostro possesso che possiamo avvitare nella vitatura standard che troviamo nella parte superiore dell'asse centrale del cavalletto. La lunghezza delle gambe si regola con un sistema a vite dove abbiamo degli anelli tra un segmento e l'altro che dobbiamo avvitare o svitare per bloccare o sbloccare appunto la regolazione delle parti. La mia preferenza va di solito per il sistema a morsa dove abbiamo delle levette che bloccano o sbloccano le gambe dall'allungarsi e preferisco questo sistema perché è il sistema a morsa rispetto al sistema a vite utilizzato in questo cavalletto perché permette di avere guardando il cavalletto possiamo subito capire se le gambe sono tutte quante chiuse e ben bloccate. Quindi il sistema a vite invece dobbiamo ogni volta assicurarci singolarmente su ogni giunzione tra le diverse parti se abbiamo stretto abbastanza la vite. Però il sistema a vite comunque a parte la mia preferenza personale è molto amato dai fotografi naturalisti e dai fotografi che viaggiano dato che è un po' più compatto e soprattutto non ha parti che sporgono e sulle quali si possono impigliare altre attrezzature causando incidenti come per esempio il cavalletto che cade per terra. Naturalmente io scatto tendenzialmente all'interno di uno studio quindi non ho il problema di avere così tanta attrezzatura e imprevisti con il cavalletto. Per regolare l'altezza dell'asse centrale viene utilizzato lo stesso sistema a vite che in questo caso però piace anche a me dato che permette di fare le regolazioni sull'altezza in maniera più delicata e più precisa. Nella parte inferiore dell'asse centrale troviamo un perno a cui possiamo agganciare dei contrappesi per aumentare la stabilità del cavalletto. Questo perno si può svitare così da poter tirare fuori l'asse centrale e possiamo montare per esempio l'asse centrale sotto sopra per la macrofotografia oppure possiamo una volta tirato fuori l'asse centrale agganciarci le due braccia orizzontali che formano la struttura per il piccolo capanno mimetico. Una volta inserite le braccia possiamo rinfilare l'asse centrale e riavvitare il perno così da bloccare la struttura. Quando dobbiamo allungare le gambe e posizionare il nostro cavalletto è comodo cominciare dalle viti e dagli anelli più lontani dall'asse centrale così da poter in una volta sola sbloccare tutte quante le gambe e in questo modo è più veloce estenderle completamente tutte quante insieme. Allo stesso modo per riavvitarle conviene partire dagli anelli superiori così via via possiamo velocemente chiudere tutte le parti di blocco. Le braccia che reggono il tessuto mimetico si alzano come le gambe del cavalletto premendo un piccolo pulsante metallico. Quando cominciamo ad allungare entrambe le braccia notiamo che in due punti sono presenti degli snodi che permettono alle sezioni di piegarsi così da formare la struttura che sorregge il tessuto mimetico. Per velocità durante la ripresa del video mi sono fatto aiutare nel posizionare il tessuto mimetico sopra il supporto ma con un po' di pratica è possibile imparare ad assemblare l'intero prodotto anche da soli con una certa velocità. Una volta posizionato il tessuto mimetico non ci resta che infilare entrambe le braccia all'interno di guide che sono state cucite all'interno del tessuto mimetico e una volta fatto anche questo il nostro capanno portatile mimetico è pronto per essere utilizzato e per spostarlo come vedete ci basta afferrare il nostro cavalletto e spostarci nella posizione che vogliamo iniziare a fotografare. L'interno è abbastanza spazioso e posizionando il cavalletto un po' basso possiamo anche appostarci magari con uno sgappello da campeggio per aspettare di poter fotografare i nostri soggetti. Non fate caso al fatto che sto utilizzando come obiettivo un 50 mm per questi video dato che il prodotto è studiato per essere utilizzato con dei teleobiettivi e infatti la distanza che c'è tra macchina fotografica e tessuto è di circa 40 cm. Il prezzo del kit che comprende cavalletto, braccia e tessuto mimetico è di circa 390 euro mentre il prezzo del monopiede è di circa 70 euro. Potete contattare direttamente la Muraro per maggiori informazioni sia telefonicamente sia via email ai recapite che vedete qui in sovraimpressione oppure che trovate nella descrizione di youtube o sull'articolo su player2.com. Se siete appassionati di fotografia naturalistica fatemi sapere cosa ne pensate di questo prodotto e quali sono le vostre esperienze con altri tipi di soluzioni per questo tipo di problema. Come sempre potete iscrivermi su carlochiocciolaplayer2.com per dubbi o suggerimenti e mi raccomando visitate il sito di player2lighting www.player2.com e iscrivetevi al forum di player2lighting www.player2.com. slash forum. Grazie per aver visto anche questo episodio e ci vediamo al prossimo.